Salta la prima panchina nel campionato di promozione e Catullo non è più il tecnico della Vissariano. L'allenatore Sannita dopo il doppio K.O. contro San Martino e Paolisi dice addio al sodalizio del Tricolle. Un punto in tre giornate, otto gol subiti e quattro fatti, penultimo posto in classifica. Peggio hanno fatto solo Bisaccese e Siconolfi. Ufficialmente, secondo quanto comunicato dal club, l'addio tra le parti sarebbe giunto per sopraggiunti i problemi lavorativi. Al suo posto Gerardo del Vecchio, che ancora una volta ha deciso di non lasciare la vista sola. Per motivi personali, aveva deciso di lasciare il terreno di gioco negli anni scorsi. Una scelta momentanea o definitiva non è dato saperlo, anche perché, secondo indiscrezioni, sullo sfondo potrebbe esserci Andrea Ciaramella. Intanto, domani contro l'Audax Cervinara, la panchina sarà affidata a Gerardo del Vecchio.